Con una delibera adottata dall'Aggiunta Comunale, di recente anche il Comune di Praia Mare ha aderito al progetto per sostenere la candidatura del Cedro come Patrimonio UNESCO dell'Umanità, lanciata nei mesi scorsi dall'Accademia Internazionale del Cedro. Un'iniziativa nata con la nomina del Presidente Franco Galiano nel Comitato UNESCO della Regione Calabria, organismo che si occupa dei progetti per l'inclusione di beni ambientali e culturali nel patrimonio dell'umanità. L'atto dell'Aggiunta di Praia Mare si aggiunge a quelli deliberati dai Comuni di Santa Maria del Cedro e Orso Marso e dagli organi del Consorzio di Bonifica Locale, che ha anche il compito di ente coordinatore del sostegno al progetto. Intanto il lavoro di diplomazia istituzionale dell'Accademia del Cedro prosegue. L'attività del Comitato UNESCO, fa sapere il Presidente Galiano, in questo momento è sospesa ma riprenderà non appena sarà nominato il nuovo Assessore alla Cultura della Regione Calabria. Nel frattempo, ha aggiunto, ho avuto degli incontri informali con il Presidente Oliverio, dopo averne parlato anche con il Presidente della provincia di Cosenza, Mario Chiuto. Entrambi si sono detti interessati e si auspica che presto questo interesse si traduca in atti ufficiali dei rispettivi enti. L'idea dell'inclusione del Cedro nel novero dei beni dell'umanità nel frattempo poggia sui possibili futuri scenari. Alla base di tutto, ha spiegato Galiano, c'è il dato culturale e una non trascurabile matrice identitaria. Il Cedro si pone come elemento aggregante dell'identità del popolo della Calabria del Nord, una delle tante Calabrie che, nel particolare, ha radici comuni con la confinante Basilicata. Ed è per questo motivo a concluso che guardiamo con interesse anche a Matera, capitale europea della cultura 2019. Grazie a tutti.